purtroppo la live è saltata e perché siamo incappati in un problema che non abbiamo previsto la bella giornata di domenica ha fatto arrivare in Val Chisone una montagna di turisti nel fine settimana e le cellule dell'internet si sono saturate le cellule del cellulare di trasmissione quindi non malappena siamo riusciti a comunicare con whatsapp quindi abbiamo deciso di rimandare in un giorno infrasettimanale abbiamo fissato un appuntamento per giovedì questo che viene alle ore 20 quindi la live è stata spostata cogliamo l'occasione di questo annuncio per segnalarvi che abbiamo trovato un altro articolo che parla di questa misteriosa intervista del generale del gesuita in merito all'osservatorio vaticano rilasciata alla radio una radio che abbiamo già è comunque scritto in questo articolo io non lo vedo molto bene perché qui mi risulta piccolo quindi questo blog che di cui vi mettiamo il link riporta il testo proprio circostanziato che sostanzialmente dice che questo cardinale ha detto che i vertici della chiesa le persone quelli che contano diciamo le gerarchie sanno che lì fuori nello spazio c'è qualcosa che di strano che sta succedendo c'è qualcosa che si sta avvicinando quindi è coerente con l'altra notizia quindi da un certo punto di vista si possono considerare due fonti quindi delle persone che hanno sentito questa intervista oppure altre che l'hanno sentita quindi è difficile capire quale sarebbe la fonte finale che potrebbe portare questa cosa come giornalistica quindi essendo una dizia molto importante quindi c'è qualcosa là fuori nello spazio che si avvicina cerchiamo di trovare il riferimento qualche giornale qualcosa che la riporti in modo parallelo e quindi seguiamo un criterio giornalistico vi aspettiamo tutti giovedì alle 20 a dare i saluti al canale di roger l'astronomo brasiliano